Un'altra domanda è come ha fatto lo United da mandare via McTominion? E torniamo al discorso di prima E' una squadra in cui non funziona niente, è una società che non capisce niente dove c'è solo gente che fa puttanate E' la stessa proprietà di Simeos che sta gareggendo con Luna Rossa in questi giorni Da qualche mese ha assunto la proprietà dello United E non c'è la palla, no? Mi confia la palla, ecco Non è indovinato, hanno ammazzato qualsiasi giocatore Greenwood, Oilund, Rashford, Anthony, adesso Zirk Zee, De Ligt E' una tragedia, è una barzelletta E' la più grande comica che gira in Europa Non c'è una squadra paracorabile Cioè il Paris Saint Germain in confronto su di scienziati incredibili Ma c'è l'altro che ce l'ha fatto finale di Champions Non c'è l'altro che sarebbero tutti arrestati Ma come si fa? Ma come si fa, raga? Ma come si fa? Come si fa? Cioè hanno indovinato una scelta Non è una squadra che ha buttato per aria allenatori, giocatori, direttori Non capiscono niente No, guardando McTominay, davvero tiene da pensare Vi siete distratte, avete guardato le partite così Perché Era uno che comunque faceva il titolare anche indiscutibile Ma è un calciatore che Io, onestamente, un calciatore del genere Sembra un po' Milinkovic-Savic Però forse è anche più forte di vincere Per anni Fisicamente in cinque passi facendo il trocampo aria avversaria Ragazzi, è un giocatore che abbiamo visto poche volte secondo me Io lo so che tu te lo ricordi anche